buonasera vi presento questa opportunità allora si chiama tower capital ed è un algoritmo totalmente gratuito almeno per i primi 71 giorni è gratuito dopodiché uno può decidere di in pratica andare avanti acquistando il pacchetto e avrà il suo guadagno grazie al suo pacchetto però per i primi 71 giorni è gratuito quindi uno si registra da qua se va alla registrazione tramite il mio link una volta che si registra tramite il mio link avrà la possibilità in pratica di registrarsi inserendo il mio codice d'invito se non inserite il codice d'invito non avrete la possibilità di poter entrare in modo gratuito quindi consiglio che vi do schiacciate il mio link una volta che vi riesce ad inserire il register andate in register in alto dove c'è il menu schiacciate il register in alto qua perché si riuscirà il register e da lì vi registrate inserendo la mail la password il codice d'invito questo invito sarà le 4-5 lettere e numeri che lo dovete copiare e incollare dentro per essere registrati con il mio referral link dopodiché una volta in pratica registrati vi arriverà un codice via email nello spam nello spam lo troverete e da lì lo copiate e lo incollate inserite dentro e siete verificati entrate con l'email la vostra password e vi apparirà una pagina così ok vi apparirà l'identificazione che dovete farla dovete inserire il vostro documento il nome cognome e quant'altro dopo una volta registrati certificati verificati andate su quel menu qua quella pagina qua dove c'è scritto tower trattino i grid robot che è il primo pacchetto c'è scritto periodo 71 giorni lo fate acquista lo acquistate e andate a confermare il pagamento per il resto qua è attivo dopodiché poi se volete fare rete andate in alto qua dove c'è i tre cerchiolini in alto a destra e qua avete di dire il riferimento che è quello che vi dicevo da inserire qualora vi registrate il link da fare registrare ai vostri amici quanto guardate sotto la vostra squadra la vostra squadra e da lì vedete chi è attivo chi non è uno attivo e due no però due che si sono appena registrati e da lì dopo potete fare rete e guadagnare anche di dare la vostra rete la percentuale scritta qua in pratica guadagnerete dal diretti dai diretti andate a guadagnare lo dico subito il 15 per cento e 6 per cento su ogni pacchetto che dice 15 per cento su ogni agente delle daily in pratica 15 per cento su ogni giorno di ogni giorno di ogni guadagno che prende il 10 per cento sulla seconda rete sul terzo 5 per cento e dopo anche quelle commissioni in pratica in pratica 15 per cento e sotto in pratica il 6 per cento dei diretti qualora in pratica tutti i giorni loro ricevono le commissioni le loro rewards in pratica e dagli indiretti 4 per cento della terza linea 2 per cento buono 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 tanta roba da provare provatelo pure mi saprete dire il giro qui sotto al link e vi trovate tutto grazie ciao